Decidete voi Sì tranquillo abbiamo già deciso Perché un ragazzo ha detto è il tuo compleanno Compi 34 anni boom Ora questa è la tua nuova età E' il tuo nuovo giorno in cui sei nato Vai pure la naga e fai segnare tutto Allora qua cosa vogliamo prendere Contro Xayah, Malphite Boh do Olan Shield che mi poca con la Q Questa e questa fa le più mette Vai Bullismo sui compleanni Cazzo Lore Adesso che ci penso dobbiamo fare pure Nella canzone Nella canzone Del canale dobbiamo metterci pure tipo Qualcosa riguardo ai compleanni Una frase sui compleanni Visto che ormai sono diventati anche quelli un meme del canale Che cosa ci mettiamo ragazzi Tipo Una frase tipo Oggi è il tuo compleanno Anche se non lo è Una roba del genere Cioè deve passare quel concetto Aiutatemi in chat Scrivetemi qualche frase D'effetto sui compleanni Udia le denti nel naso E mastica l'aria prima di respirarla Si mettiamo tutto nella Tutto ci deve essere l'ora La canzone deve essere più tarra possibile Se non si sa perché è diventato Cosatissimo Xygon Conqueror Brutto Preferirei tipo La chiave come la ricevi Ti inviro la richiesta amicizia sul lol Devi lasciare il tuo nick Lascialo a un mod Oppure qui in chat Il mod lo segna Oppure aggiungi agli amici Cugino rap E mi fai sapere che sei tu sempre Quindi devo comunque sapere il tuo nick Ti devo aggiungere agli amici Devono passare 24 ore E poi ti posso inviare la Il premio Il premio Sì, sì, iscrivilo qui, tanto è che Si stalkeriamo Ecco qua, guardali Come si sono presi l'argento in faccia Questi, in gola, dritto L'argento di Vayne Bene, va bene Ma, caralto Ma perché Kylo non ha oggetti? Kylo non ha comprato oggetti, raga Vai, vai Questo, per esempio, è un personaggio divertente da giocare Molto più di Udyr, cazzo Ecco qua Oh, cattiveria pura Vaynebrand E ho pure il Doranshield Cioè, sono un partito con l'oggetto da passivo E abbiamo fatto due kill Pensate se avesse avuto l'oggetto da dominio Buonanotte Tiu XTiu Joe XTiu Joe Va bene, buonanotte Con l'arma di Udyr l'ha partorito L'hanno pulita con la guarda igienica Ma, what the fuck Se ne pensi di fare Sveigar solo buildato No, 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 no Uff, saluto Elemento di infinito No, no L'hager lo buildiamo con tanti belli Bay Rabadon al massimo Bene, vado back che non ho più mano Allora Penso che parto con l'esco Così Ottimo start, Kai Non ha comprato nessun oggetto È morta È arrivata in base Preso questo qua Senza pozze Ora si trova 0-1 Con la cometa Senza oggetti utili Ma Grazie per il follow A El Cormano Benvenuto Fulcrit l'ha fatto vega Ragazzi Non me ne vogliate Ma Sinceramente Questo è quello Trollare un po' troppo Quindi non farò vega Fulcrit Mai Vieni qua Vieni qua Assaggia il mio argento Sì ma così la spaventi troppo Brand Così la spaventi troppo Poi scappano Recollano Non sono kill per me dopo Fino a che ora Stai rap Fino alle 2 ragazzi Sapete che quando Sono da Fieric Poi dopo Quando attacco live Attacco tardi E se voglio fare Almeno 2 rette Fino alle 2 ci sto Adesso vediamo E ovviamente Se magari finisco Un game a 1.30 Forse non ne starto Un altro Ecco Però se ne finisco A 1.20 Ecco magari lo starto Solo che ovviamente Non voglio fare Troppo tardi anch'io Che domattina Devo fare delle cose No Ho provato a rubarlo Raga Va bene va bene va bene Sto prendendo comunque Tanti assist Però comunque sia Non bastano Cioè 2.03 Speriamo non surrendino Sono messi un po' male In bottele In loro Quindi hanno un morale A pezzi Sicuramente Perché non fate live assieme? Perché non posso Matte Non posso Non ho la partner Con Twitch Quando avrò la partner Potrò fare live Contemporaneamente a lui Faremo la stream squad Così potete vedere Entrambe Le Entrambe le Le live Contemporaneamente Sia la mia Che di Fieric Vedete I troll pick Da entrambi I Da entrambe Le visuali Ragazzi Fino a che Elos è arrivato Il mio massimo Elos è stato Platino 1 Quando Anni fa Giocavo seriamente Po tre anni fa Non ho mai Traiardato tanto Su questo gioco Mi diverto di più A cazzeggiare Usare lo smart Giocare i nuovi champion Che non so usare Così in ranked E divertirmi Perché alla fine Il gioco Serve per quello Non tanto A salire di elo Ma a divertirsi Cioè Dopotutto Uno scarica il gioco Per divertirsi Non Non scarico League of Legends Dicendo Cazzo Aspetta Voglio salire di elo Ma non conosco nemmeno Il gioco Non importa Voglio salire di elo Ecco Ma what the fuck Sei sicuro Psycho Dark Di voler fare Duo con me E dopo Devo giocare Veigar Se non faccio S con Vayne Eh no Caro mio Non mi uccidi A parte che forse sarebbe stato un giustiziato Perché lei non mi ha proprio attaccato Comunque dai Che no E so già andati a tutti i nemici Questa partita Siamo Siamo troppo forti E brand Ma anche i miei compagni Stanno stracciando tutti 70 farm a 20 Cos'è Fiora mid lane Poi Dai dai Stanno bene Ragazzi ma che cazzo stiamo facendo Ma sono dei bot Ciao fraca Ma cosa stanno facendo Pazzi Yumi è una skin magica Che sta su ogni champion E su ogni cugino Ragazzi Sta su ogni cugino Yumi Cioè vi rendete conto Che voi ogni volta che guardate la mia live Inconsciamente Il vostro cervello Sta guardando anche Yumi Cioè A forza di vederla Per voi Quando la vedrete In game Che verrà piccata Direte Cazzo ma c'è Yumi Ma non avrete paura Perché l'avete vista per tutto il tempo BAM Quanto è bello sto BAM Insomma Di parte della seconda Mamma mia Ma sta facendo un assaggio Questa Fiora mid lane 9-2 No dov'è Che è 9-2 Cosa ho visto 4-2 Madomma Che cosa sto guardando Sì c'è l'audio segreto Con Anivia Ma al giro se l'ha trovato BAM Cazzo Madonna Un po' di BAM In testa Mi massaggio un po' il collo E con l'altra mano Gioco Facciamo la Q Questa gente si merita Soltanto una cosa Anivia È un po' basso Il vocale di Anivia Però sì Questa gente si merita Soltanto Anivia Oh ma qua c'è Jax Ragazzi Capito di recollare qui Contro il muro Jax Ottima R Stamente tanta attack speed Che non riesco ad annullare Gli attacchi base Con la S Con l'esemplare di Malphite Nel suo vita Naturalmente Che si Mimetizza Tic E vabbè ragazzi Vayne è molto più forte Di Udyr Vayne è un campione Come si deve Cazzo Questo sì che è un campione Anche se è una kill Per gli altri È una kill per gli altri Un po' meno per gli altri Perché Perché davvero Shotta e scioglie tutti Un pv Un pv in tank Fa questo Ottima ultima Il fight Questa qua Sta tirando dritto Ma cosa sta succedendo Ma cos'è Ma cosa sta succedendo Raga Flash a caso Uno che tira dritto Questo che fa la ulti Sul posto Mamma mia ragazzi Che bellezza Come hai conosciuto Rick Siamo cugini Tu come hai conosciuto Tu cugino Se ne hai uno Buonanotte Luca Colbe Sei tu che l'altro giorno Sei passato a dirmi Tipo E complimenti Perché sono finito Sul video di Richard Che stava crashando La live in quel momento Perché mi ricorda Mi ricorda Cioè Penso sia Il tuo nome Non lo so Purtroppo Volevo ringraziarti Dei complimenti Non so se eri tu O chi cazzo è stato Però Mi stava crashando Tutta la stream Non niente Non ho oggetti Più ora ho venduto tutto Raga Guardate quanto è tiltata Questa fiore Cioè è tiltata Perché la sto facendo Vincere Raga È tiltata Perché la sto Carriando Ma cosa vuol dire Ma in che mondo siamo Un tuo compagno Sta giocando bene E tu tilti Non vuol Devo Dobbiamo perdere Vogliamo perdere ragazzi La facciamo perdere apposta Non lo so Che dobbiamo fare Più ora Ma cosa dobbiamo fare Adesso la faccio tiltare ragazzi Le scrivo Io ovviamente vincerò Anche con te che indi Perché io vincerò Non più Non più Non più Io vincerò In ogni modo E tu lo sai Detta come va detta Figlia di tro Vediamo del critico Ma sì dai Oddio anzi no Vai Ora diventi immortale Per il tab su fiore Ecco qua Ma che cosa Gli ha preso Alla gente Raga Ma cosa Gli prende Alla gente Veintank Sì Dato che Purtroppo Ho uno che Inta Se devo fare Uno v5 In uno v5 E non In due v5 Devo essere Immortale Vedete Non mi fanno Danne Adesso mi contro Purtroppo la lanza Della morte E arrivederci Report Fiora Forinting And Grieving Edz Buonasera Simone Mamma mia Ragazzi Tilterina Stop boosting I know you boost Mi boosto da solo Ragazzi BAM In live stream I boost Of course No Believe Mamma mia Che gente Mamma mia Ragazzi Che gente Ragazzi Non sono io Che sto giocando Mi sto Mi stanno boostando Io non Non sono io Che sto toccando La tasiera L'ho ammesso Riot È mia colpa Ma che cazzo Gli hai preso Ma raga Ma cosa vuol dire Mettiamo sì Mettiamo sì Vabbè Ovviamente La vinciamo Comunque Però C'era qualcuno In mid lane Per caso Posso prende perdere Anche se E infatti Ma a me Non prega Niente Raga I'm fine If we FF I don't care About win I just want My S Wain Don't worry We can win 4v5 O un 1v5 I guess Brand 1v5 Is enough For me Si è subito I hate Boostiers Come se lei Non stesse Stravincendo Mid lane Ragazzi Lei stava Mamma mia Sta fiora È un po' Malata Spero che sia Italiana Guarda Ciao Rannatosta Grazie mille Mamma mia Proprio Assurda Non mi è mai Cupidata In tutta la vita Una cosa del genere Mamma mia Mamma mia Chill bro Oh Hanno surrendato GG Hanno surrendato Ragazzi Mo' sta stronza Le passiamo Le passiamo La live Vai Così mi puoi riportare Anche la live Che dita Ah raghi Non ho parole Mamma mia Che gente Mamma mia Che gente You were playing good Fiora Se n'è andato Basta Basta Report Fiora Thanks Allora Verbal abuse Hate speech Negative Questa ha griffato Ha fatto Inting Non so se ha fatto E speech Perché non ha capito La sua lingua Quindi facciamo così Upidorm Hate win Maybe Forse Lei non piace Vincere Eh raga Esistono persone A cui non piace Vincere Ne conosco Tante E Nella mia vita Ne conoscerò Ancora altre Tanti Eh gli oggetti Li ha venduti tutti Per intare meglio Raga Gli oggetti Li ha venduti tutti Per intare meglio Bronzo 4 Come bronzo 4 Ma non sono Non sono bronzo 3 Ah ecco Sono bronzo 3 Ogni tanto Client Si Si sbaglia Ok